Bene, benvenuti. Bibiexpo, che vedete qui alle mie spalle, è un progetto realizzato dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Aventiste, insieme alla Società Biblica in Italia, alleanza biblica universale e anche all'Otto per Mille come progetto culturale. Lo scopo di Bibiexpo, che è un'idea mutuata da un'esperienza spagnola, dove il progetto è stato portato avanti fin dal 2015, l'idea che sta dietro Bibiexpo è di fare in modo che le persone possano venire a contatto con la parola di Dio, rendendosi conto del suo valore, della sua importanza nella storia individuale, per capire anche meglio e vedere visivamente proprio quelli che sono dei luoghi, degli oggetti, degli eventi legati al racconto della Bibbia. Allora, chi vuole fare da guida nel Bibiexpo deve tenere conto di alcuni elementi importanti. Uno, che la Bibbia è un testo di cui nella nostra società si è sentito parlare, ma sostanzialmente è sconosciuto. O comunque una parte delle persone ne ha una conoscenza molto limitata. Questo motivo ci dice quindi che bisogna fare attenzione e cercare di capire le persone, qual è il loro livello di conoscenza per adattare la presentazione. La seconda cosa è che ci sono degli elementi che fanno riferimento a una cultura che non è più la nostra e quindi che risultano anche per certi versi scioccanti. Per esempio, nel racconto della liturgia del santuario, che vedremo poi più avanti, l'idea di uccidere degli animali per alcune persone risulta abbastanza impressionante. Noi non siamo più abituati a questo tipo di rituali. Quindi bisogna fare attenzione ad attutire il tema del sacrificio, adattandolo alla sensibilità delle persone. L'altro elemento da tenere presente è che bisogna fare in modo che ci siano dei collegamenti tra la vita oggi delle persone, l'attualità, le vicende che fanno parte del quotidiano o quello che noi conosciamo della nostra cultura con quello che sono i testi della Bibbia. È in questo modo che possiamo creare un ponte e avvicinare le persone alla Bibbia. Nel prosiego voi adesso vedrete l'indice dei diversi tutorial che abbiamo pensato di realizzare per aiutare sia a conoscere Bibbia Expo per il pubblico, sia per coloro che intendono fare da guida per trovare il materiale necessario per esporre i fatti che sono collegati agli elementi che si trovano all'interno di Bibbia Expo. Grazie per la visione!